Buongiorno e ben ritrovati puntuali come sempre per la nostra rassegna stampa del mattino. Andiamo a vedere cosa ci propongono i quotidiani in edicola questo giovedì 24 agosto. Andiamo a fare il nostro classico giro delle prime pagine per scoprire, come sempre, insieme quali sono gli argomenti principali di questa giornata. Partiamo subito, lo facciamo dai quotidiani di casa nostra, il quotidiano La Sicilia, una ricca prima pagina. Si parla ancora del caso di Palermo, il grave fatto di cronaca, la violenza di gruppo, il branco braccato, titola in questo caso La Sicilia. Allarme dal Pagliarelli, i sei arrestati a rischio vanno subito trasferiti, il garante. Chi diffonde il video della violenza rischia il carcere. Ermal Meta invoca Giorgia Meloni. Altra notizia, la vendetta fredda di Putin ha battuto il jet di Prigojin. L'annuncio morto, il capo della Wagner. Andiamo avanti, l'Unione Europea già vigila sulla manovra, resta quota 103, i nodi del governo. La Premier studia i dossier, Salvini dice non sprechiamo i fondi del PNRR. Altra gaff di Vannacci e Gonu in nazionale, ma l'etnia italiana ha la pelle bianca. E Gonu ovviamente è la celebre pallavolista italiana. Concorso semiclandestino per quattro posti, si presentano in nove. Il fatto è avvenuto a Ragusa e ovviamente è scoppiata la polemica. La Catania, boom di abbonamenti in soli due giorni, già vendute 10.020 tessere. Chiaramente si parla di calcio, tanto entusiasmo nel popolo rossazzurro che sta riempendo, letteralmente riempendo il Massimino. Morto Natale Bruno, cronista di razza, questa scomparsa improvvisa della collega Natale Bruno. Ovviamente una morte improvvisa e prematura che ha sconvolto non soltanto i suoi colleghi più vicini, ma un po' tutto il mondo della stampa siciliana. Ancora notizie sul quotidiano della Sicilia. Catania blocca le porte del treno per aspettare un amico. A Giarre invece è riaperto il caso dell'acqua sprecata. Giarre quindi siamo ancora nel Catanese. A Taormina invece ultimi ritocchi per il ritorno a scuola. Lasciamo il quotidiano La Sicilia. Ci spostiamo adesso sulla prima pagina del quotidiano Il Giornale di Sicilia. In primissimo piano lo stupro di Palermo via il branco dal Pagliarelli. Incolumità a rischio nella convivenza con gli altri detenuti. La direzione del carcere vuole il trasferimento altrove dei sei accusati di stupro. Sono tutti giovanissimi. Gli avvocati parlano di una gogna sul web. Intanto un vertice in prefettura Palermo contro la Malamovida. Il comune, vedete, intensifica i controlli alla luce delle recenti vicissitudini. Federfarma, il revenge porn dilaga sempre più vittime. Parla invece la docente universitaria Cappello. I social media, dice, una trappola per i narcisisti. Ampio spazio poi a quanto avvenuto in Russia. Prigozhin morto nel jet esploso. L'annuncio della TV di Stato russa. L'aereo privato in volo da Mosca a San Pietroburgo. Ancora cronaca sul Giornale di Sicilia. Al Policlinico, Palermo ovviamente, irruzione di una baby gang, vandalismi e panico. Il raid è avvenuto di pomeriggio. E poi carburante alle stelle minacciato. Lo sciopero dei tir è stato chiesto un bonus. Incendio invece nel parcheggio autodistrutte. Si insegue, o meglio si segue, la pista dolosa. Anche questa è una notizia da Palermo. Da Palermo a Gela, appello dopo l'agguato, chi ha visto ora parli. Si tratta di un agguato a colpi di pistola avvenuto contro un pregiudicato e la sorella che si trovavano in auto. Il sindaco di Gela si rivolge alle decine di passanti che appunto hanno assistito a questa vicenda, a questo fatto di cronaca. Il rincaro anche per quanto riguarda la scuola, aumenti del 10% e ovviamente proteste con l'ira dei consumatori. Mentre Meloni e Schlein, scontro sui migranti, si contrappongono. Allora ancora Giorgia Meloni e Delli Schlein per quanto riguarda questa emergenza, l'emergenza migranti. Mentre l'India diventa la quarta nazione ad arrivare sulla luna dopo Unione Sovietica, Stati Uniti e Cina. Andiamo avanti, lasciamo il giornale di Sicilia. Restiamo nell'isola con l'edizione palermitana del quotidiano alla Repubblica. Anche qui il tema di apertura e di riferimento è lo stupro avvenuto a Palermo. I detenuti li minacciano, trasferite i sei del branco. Il DAP decide lo spostamento dal carcere. Piano antiviolenza del comune, il garante avverte Telegram. L'intervento, in questo caso di Lello Analfino, che dice maltrattano le donne perché le temono e non accettano la diversità. E poi il reportage, sempre su Repubblica Palermo, nel quartiere della vittima e dei carnefici. Altra notizia in primo piano e in prima pagina. Liste d'attesa lunghe un anno, la malasanità infinita in Sicilia. E questa è certamente un'altra nota dolente per la nostra isola. Proseguiamo con la nostra rassegna. Lasciamo Repubblica Palermo. Restiamo però su Repubblica. L'edizione nazionale, in questo caso, si parla, si dà ampio spazio ai fatti che, alle notizie che arrivano dalla Russia. La vendetta di Putin precipita. Il jet di Prigojin, decollato da Mosca, la TV di Stato era sul volo ed è morto. A bordo anche il vice Utkin. I suoi mercenari è stato abbattuto dai russi. Mistero su un secondo aereo. Biden dice che nulla accade senza che Putin voglia. Ed ora, occhio alle possibili reazioni. La Wagner dice, ucciso dai traditori della patria, conseguenze disastrose. Dunque, ci saranno certamente delle conseguenze dopo quanto avvenuto con la morte di Prigojin. E su questa notizia, vedete, apre anche, con questa notizia, apre anche il Corriere della Sera. Si schianta l'aereo di Prigojin, il generale, nella lista passeggeri. La TV di Stato è morto. La Wagner dice, ucciso dai traditori della patria. A bordo anche il suo vice. In Stati Uniti, nessuno dovrebbe essere sorpreso. I suoi soldati avvertono. Le conseguenze saranno disastrose. Chissà che questo non possa rappresentare anche una sorta di autogol, in questo caso per Putin. Vedremo come si evolverà questa vicenda e dunque quali saranno gli sviluppi a questo punto anche sulla guerra in Ucraina. Il quotidiano La Stampa apre con la stessa notizia. La vendetta dello Zar ha battuto il jet di Prigojin dalla contraerea russa Mosca. Era a bordo col vice e sono dieci in totale le vittime. Per quanto riguarda invece i migranti, si rinnova il duello Schlein-Meloni. La leader del PD disumano fermare le navi. La Premier faccia soltanto applicare la legge. Dal quotidiano La Stampa al quotidiano Il Giornale, una ricca prima pagina. La crisi economica, la Germania si ferma. Tagliani e Salvini puntano adesso al nuovo patto europeo. E poi la vendetta di Putin. Cade il jet di Prigojin, abbattuto dai russi. Dieci vittime, giallo, su un secondo velivolo. Con il giornale che parla di potere spietato da parte di Putin. La legge inflessibile dello Zar. Questa però la notizia di apertura. Il grande scrocco magistrati in ferie. Non solo pianosa. Toghe ospiti a costi risori. Anche nel villaggio Isarenas e nelle caserme hotel alpine. La questione ai migranti. Giorgia Meloni respinge il Leach Line. La Premier reato di solidarietà. Applichiamo la legge. Mentre l'India sbarca sulla Luna. Si tratta della rivincita del Terzo Mondo. Con Delhi che conquista il Polo Sud. Dal giornale al Fatto Quotidiano. Armi al 2% del PIL. Scholz no. Meloni invece sì. Si parla chiaramente di spese militari. Con Berlino che si tira indietro. Roma invece resta sull'attenti. La Germania rinvia di 5 anni. L'impegno con la Nato. Meloni giura fedeltà a Kiev. Ma teme i sondaggi. Vignarca. Le priorità sono ben altre. E la gente lo sa. Il tema delle armi continua a far discutere. tra favorevoli e chiaramente contrari. Lasciamo anche il Fatto Quotidiano. Questa è la prima pagina del Quotidiano Il Tempo. Che invece apre con una notizia altrettanto importante. La ricostruzione di Amatrice dopo il terremoto. Daremo subito risposte a sette anni dal sisma. Bilancio del Presidente Rocca. Che dice si è perso troppo tempo. Andiamo nel dettaglio. Cantieri lenti e fondi spariti. finanziata solo la metà degli interventi necessari. Su 761 milioni accordati. Ne sono stati liquidati appena 329. I comuni da soli non ce la fanno. Guardate questa curiosa notizia invece. Una donna ricoperta di cioccolato. Nella buffet. Il cliente. Un cliente denuncia l'albergo. Dunque non ha gradito. Ha battuto l'aereo di Prigogi. Il capo della Wagner era sul jet precipitato vicino Mosca. E questa la vendetta di Putin. Dal tempo al quotidiano La Nazione. Come vedete stamane l'argomento di riferimento su gran parte dei quotidiani. E' certamente questo. Ucciso il mercenario di Putin. Ha battuto dai russi il jet del leader della Wagner Prigogin che tentò il colpo di Stato due mesi fa. I soldati della morte. Ora il disastro. Intervista a Kostiukovic che dice solo lo zar poteva dare l'ordine. Altre notizie in prima pagina sulla nazione parla Almed Mahmoud ovvero il padre del celebre cantante di soldi orgoglioso di mio figlio dice ma soffro. Questo ovviamente poi per i dettagli bisogna andare all'interno del quotidiano La Nazione per capire il perché il padre di Mahmoud soffre in questo caso. Vandali in azione agli uffizi il ministro dice tolleranza zero e poi la forza di Gimbo Tamberi resta se stesso dona l'oro alla moglie. Davvero un simpatico personaggio oltre che un grandissimo campione. Gimbo Tamberi campione olimpico e adesso anche campione del mondo nel salto in alto. Siamo sul quotidiano libero. Occhio arriva un eurofregatura il patto di stabilità torna e sarà calcolato sul 2023 così l'Italia sarà sanzionata con Libero che parla vedete di uno schiaffo da parte della Commissione europea. La vendetta di Putin i comunisti fan così cade un gete la tv di Mosca annuncia morti i prigogi nel suo vice la Wagner e Kiev abbattuti dallo zar e l'ora di nuove epurazioni. Ora Scholz invece imiti la Meloni e paghi i danni di Firenze e turisti tedeschi imbrattano gli uffizi. Infine sul tema migranti attacco Dem ma Georgia non perde voti e intanto Elislein vuole i porti aperti. Ed ora lo sport andiamo a vedere anche oggi le prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi italiani ovvero Gazzetta Corriere dello Sport e Tutto Sport. Tanto calcio mercato partiamo dalla Rosea in primissimo piano c'è Roberto Mancini fuga d'oro ecco perché ha lasciato la nazionale CT da rabbia 90 milioni fino al 2026 accordo fatto atteso soltanto l'annuncio con Mancini il suo staff storico altro che problemi personali. Di questo scrive la Gazzetta dunque sarebbe questa la motivazione che ha spinto Roberto Mancini a lasciare la panchina della nazionale azzurra. Dicevamo di calcio mercato il Milan cerca un numero 9 dunque un attaccante un vice Giroud. E chi tichè ha scelto i rossoneri si tratta con il Paris Saint Germain per il prestito. Lasciamo la Gazzetta questo è il quotidiano tutto sport anche la Juve cerca un attaccante e potrebbe essere un ritorno allegri chiama Morata. Juve dipende tutto da Kane la cessione difficile ma non impossibile con lo spagnolo Morata che spera di tornare in Italia però vedete la Juve deve prima riuscire a vendere almeno un esubero della Rosa. Chiudiamo con il Corriere dello Sport un altro attaccante sotto i riflettori in questo caso è Lukaku salvali tu titola il Corriere dello Sport salta anche Zapata ora la Roma è un caso. L'Atalanta ritira Duvan Zapata e Murigno resta con il solo Belotti. Fredkin e Pinto hanno otto giorni per completare l'attacco l'obiettivo della Juve ovvero Lukaku è la soluzione più gradita a tecnico e tifosi. Dunque chissà che Lukaku dopo le voci sulla Juve e le voci sul Milan ma anche chiaramente quelle dell'Inter a inizio mercato chissà che alla fine non possa tornare in Italia ma con la maglia della Roma e certamente con Dybala sarebbe una grande coppia d'attacco. Ci fermiamo qui chiudiamo questa rassegna stampa odierna abbiamo fatto e concluso il nostro giro dei quotidiani il giro delle prime pagine ovviamente l'informazione non si ferma sui nostri canali partiamo a breve con tutte le nostre edizioni di Spazio Notizia per tenervi sempre aggiornati e allora vi invitiamo anche oggi a rimanere con noi a più tardi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.